ciao a tutti nuova recensione recensione dei pezzi occhi quelli di kiko io ho ordinati nello store online di kiko non mi ricordo il prezzo ma all'interno ci sono due patch il packaging è questo e qui vi indica come applicare il tempo di posa e cosa fare dopo io li ho usati tre volte seguendo il consiglio di analisi per stare qui su youtube vi faccio vedere anche il colore non si vede però sono tutti i gioali e sono contornati da queste plastichine per conservarli in questa scatolina io li ho usati tre volte praticamente adesso non li lascio neanche più prodotto io mi sono trovata bene perché rimangono aderenti al contorno occhi non danno per niente fastidio e veramente il contorno occhi sembra più rilassato più più steso ve li consiglio non ve li consiglio ve li consiglio perché hanno un medio prezzo sono facilmente reperibili perché kiko ha molti store in italia e funzionano per quella che è la mia esperienza funzionano ve li consiglio non so quanto 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 a lungo questo video penso sia corto era per fare una mia ricensione dopo tre utilizzi e niente spero che il video mi sia piaciuto mi sia stato utile in qualche modo se eravate incuriositi da comprarli ve li consiglio e niente spero che il video vi sia piaciuto vi sia stato utile lasciate un like e un commentino iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao